Da quanto tempo non ricevete acqua nel vostro bar? Con oggi sono quasi nove giorni, lunedì scorso è stato l'ultimo turno di regolazione, lunedì mattina. E come avete fatto? Praticamente noi ci siamo da tempo attrezzati con delle scorte, abbiamo circa 6.000 litri di capienza, però nonostante tutto noi rimaniamo sempre senza acqua, perché in un'attività del genere dove l'acqua è di uso continua, rimaniamo senza acqua. Quindi rimanendo senza acqua dovete acquistare da fonti private, da autobotti, quindi oltre a pagare la Girgenti pagate anche l'acqua. Il problema è che noi teoricamente non possiamo acquistare l'acqua perché praticamente trattandosi di un'attività pubblica la Girgenti dovrebbe garantirmi un autobot con l'acqua potabile. Siete rivolti? Io stamattina ho chiamato, mi hanno risposto dicendomi che hanno dei disservizi, disservizi che ormai si prolungano da più di tre mesi e mi dicevano che praticamente non mi possono mandare l'autobotte perché nel tardo pomeriggio mi dovrebbero erogare l'acqua. Quindi io dovrei essere costretto a chiudere il bar da stamattina fino a stasera. Cioè questo è il colmo. Noi paghiamo delle bollette con un metro cubo d'acqua, praticamente paghiamo l'acqua e il paese dove paghiamo l'acqua è più cara in tutta Italia e ancora succedono queste cose.